Raddoppia il numero degli abbonati al teatro civico. La nuova stagione si preannuncia un successo di numeri e di critica. Una grande stagione e un altro record di abbonati, 962. Quattro anni fa, quando abbiamo iniziato sotto varie forme la programmazione di questo teatro, gli abbonati erano 480, quindi da 480 a 962. Il teatro è quasi sempre pieno, il prossimo spettacolo, quello di Marco Paolini, è completamente esaurito, totalmente esaurito, la stagione è un grande successo, di numeri e immagino anche, per adesso in realtà c'è stato solo lo spettacolo di Zingaretti, comunque spero anche di critica. È una stagione che contiene spettacoli di natura molto diversa, quindi una grande possibilità di vedere diversi tipi di teatro e compagnie italiane molto importanti nel nostro teatro. Una stagione degli abbonamenti da record, i costi sono stati coperti e sono stati raggiunti anche altri obiettivi. Abbiamo aumentato il numero degli abbonamenti rispetto allo scorso anno e speriamo, per come è andato già lo spettacolo di Zingaretti, che era uno degli spettacoli di punta che è andato benissimo, di aumentare anche gli incassi degli spettacoli fuori abbonamento. Quindi diciamo che rispetto ai costi puri dei cachet, posso tranquillamente dire che questo costo è già coperto dai nostri incassi. L'affluenza al teatro è sempre alta, vengono premiate la qualità e la varietà degli spettacoli in programma. Il tutto esaurito, il coinvolgimento dei giovani, delle scuole, un po' di tutte le generazioni su un programma che è molto apprezzato per la sua qualità e per la sua varietà. È il risultato del lavoro di Roberto Alinghieri, della commissione che collabora con lui e poi di tutti coloro che lavorano qua dentro. È una squadra davvero straordinaria, sotto organico, ma che ci mette tantissima passione e tantissimo amore e fa di questo teatro un punto di riferimento sociale e culturale per tutta la comunità, per tutta la città, ma non solo, perché vengono anche da fuori comune e da fuori provincia tanti spettatori affezionati alla qualità delle nostre proposte.